andiamo avanti con la nostra partita loro si devono ancora svegliare dal sonno l'equipmente non mi interessa il tutorial ringrazio allora questi sono sicuramente da fare qui ce ne mancano 5 se non sbaglio vediamo no ce ne mancano 10 quindi vai ok ah tu lo dai da dentro vabbè ci sta ci può stare va bene e magari vai qui fai prima il cibo che è importante ok perfetto dopo adesso lo sistema quindi metti a posto lo stufato penso sia questo stufato mettilo a posto e ci mancano altri 7 per andare avanti mentre lui sta livellando vediamo un po' si fa solo questo mentre è letto all'8 perfetto perfetto infatti ce l'ha ce l'ha per 2 quindi è molto molto veloce a posto no ancora no dobbiamo fare delle difese adesso le difese le andiamo a organizzare è solo che mi serve della legna per organizzare le difese un arciere ce l'ho allora vai ok e le faccio dovrei fare una specie di torretta dove la faccio qui al centro mi da proprio fastidio mi da proprio fastidio allora prima voglio però utilizzare il legno per andare a ok per terminare il cibo per fare una sorta di di cucina quindi continuando a tagliare legna ok ok tu tagli e tu metti a posto brava allora per ora posso anche darti una stock qui dove ci metto soltanto materiale precisamente solo il legno così non ti fai le vasche ok il cibo per ora c'è comunque ci stanno loro loro no il cibo c'è il cibo c'è non è tanto ma c'è dovrebbe essere abbastanza per lui teniamone uno ok così lui intanto si mette a posto un po' di legna allora con questa legna io mi vado a fare una cucina me la faccio proprio qua dietro sapete me la faccio qua dietro che mi parte da qua mi vai di qua e mi chiedo di qui o le facciamo tutte uguali le stanze facciamole tutte uguali anzi no facciamole diverse dai che è abbastanza carino diversifichiamo un po' questa mi diventa una porta questo no questa è una stockpile no questa mi diventa un terreno ok e qua ti metto anche il tetto vai perfetto mettiamo e vai subito a mettere una di queste qui ora già che ci sei mettere un'altra va ok tanto il legno lo prendiamo pure da qua domani dovrebbero nascere i cavoli no vabbè tra un po' ci sono i cavoli perfetto tanto poi questa roba la togliamo quindi appena loro finiscono la rimuoviamo ma è dato una smokehouse per ora non mi serve mi serve lui ok questo è il nuovo lavoratore quindi vedete andiamo a prendere un cittadino e ci dice che un possibile attacco in qualche giorno perché giustamente abbiamo preso un nuovo lavoratore quindi tra 20 ore mi attaccano però per ora c'ho lei quindi organizziamoli subito un letto in fretta e furia ah non ce l'hai non ce l'hai un letto quindi andiamo a metterlo qua ok tu smetti che stai dormendo vabbè dormirai per terra questa notte c'è poco da fare vai ah prima mangi giustamente che fai non mangi e mo metti da dormire per terra ma no ma perché all'aperto ma cavolo potevi dormire qua dentro vabbè idiota ok tu hai bisogno di essere curata quindi c'hai le erbe dopo ti curi tra 16 ore arrivano i nemici non ce la faccio mi sa tra 16 ore a organizzare quello che volevo fare però ci provo lo stesso allora possiamo fare in realtà non è che mi servono grandi cose mi serve una scala mi serve una scala per salire vi faccio vedere mi serve una scala per salire al piano di sopra e però aspettate no questa cosa che sto facendo è sbagliata tu rimani qua tu via tu via se voglio mettere una scala qui eh si facciamolo così questo via mettiamo questo ci mettiamo una porta ah già è occupato lo spazio e sto pensando no mi conviene metterla non al centro ma fuori a questo punto vediamo un po' allora perché non l'ho mai fatta te lo sincero eh però come faccio a fargli la stanza fatemi vedere se c'è una tecnologia che lo fa ma non c'è no non c'è quindi effettivamente lo devo fare così perché non l'ho mai fatto no non c'è quindi va fatto per forza così eh però il pavimento me lo fa costruire di sopra quindi allora ragioniamo un attimo su questa cosa io voglio fare una scala allora la mia scala parte da dentro casa quindi questo via ok la mia scala parte da qua ah devo alzare il layer forse no eccolo qua così ok così perfetto tu dormi non ti preoccupare recupera quello che devi recuperare e poi ti metti al lavoro ce la dovresti fare no perché costruire fail ah adesso ti servono le le risorse 85 di legna ce la farò terminare quello che voglio terminare allora adesso qua ci metto il cibo anzi scusate ci metto il cibo quindi lo vado a togliere da qua via e in quest'altra ci metto le medicine quindi qua ci metto le medicine che vado a togliere da qua perfetto ora questo qua perché non me lo produci c'è un motivo particolare ah devo pure armare lei te che cosa sai fare vediamo dov'è che sei forte medicina carpenteria e costruzione quindi pure tu più a tutto quello che c'hai se non c'è niente vai a cazzotti perché questa non me la fai fare non lo so perché non me lo fa fare put and beam e no perché questo mi serve per fare un piano superiore ma allora ah forse ho capito se io lo faccio così proviamo va vediamo che succede non ci ho mai provato ragazzi quindi sarete testimoni con me di questo meraviglioso avvenimento eh mi manca il legno andatelo a prendere da qua va vai vai ma che oh che hai deciso ti svegli no sbagliato è così e tu c'hai il convalescence costruisci prima te che altro c'avevi di forte carpenteria e costruzione vai ora però qua non abbiamo messo nulla quindi intanto mettiamo nei 20 ok ora questa la possiamo buttare che non mi serve più ora voglio vedere se facendo forse così ma come setta la ride allo ma c'è sta roba da tagliare ma che sta dicendo taglia sta roba su tra due ore mi arrivano i nemici quindi arrivano praticamente di pomeriggio però c'è un arco allora tu c'hai una short sword tu un bow tu questo e tu mannaggia no nemmeno tu quindi niente tu vai a mani nude notte allora tu vai allora fa una cosa tu vai a tagliare questo e tu vai a prendere questo a posto le risorse non ci stanno tu hai sistemato tutto quello che dovevi sistemare che ti manca senti metti il cibo va metti pure questo di cibo oh non lo sposta allora che vuoi te siamo vedendo la nave mod modifier ok si aiutiamo il nostro compagno e facciamo il combattimento quindi andiamo in battaglia ora qua ci spiega il tutorial ci fa vedere da dove arrivano i nemici eccoli qua sono tre arrivano da questo lato della mappa noi siamo qua sopra e non abbiamo molte difese non possiamo mettere nemmeno la velocità a tre ci manca la legna ah la costruzione non può essere raggiunta no anziché fare questo mettiamoci una bella porta qua poi vi faccio vedere che succede adesso vedremo l'inizio d'attacco adesso si stanno avvicinando e quindi noi adesso andremo a combatterli sono quasi arrivati perfetto allora raccogliamo tutti i nostri cittadini e clicchiamo su questo pulsante draft che vuol dire che loro vanno praticamente si equipaggiano ora io volevo a lui mandarlo tipo qua sopra ma non ci puoi andare perché c'è un muro e io invece volevo mandarti là sopra quindi ok uno è morto eeeh andiamo su ostred certo non sei molto bravo con starco però eh eeeh ok i due sono scappati quindi vai attaccatelo ora rimettiamo mettiamo in pausa rimettiamo i nostri soldati così eeeh dobbiamo fare delle fosse per questi cadaveri perché giustamente insomma non li possiamo lasciare così e mettiamolo il cimitero lo mettiamo qua va vai due cadaveri ora tu sei un po' messa male tanto lo equipi ok adesso questi poverini si devono un attimo non risistemare anche perché se non li mettiamo a posto sti cadaveri il morale pesa ci hanno visto un cadavere quindi insomma è un po' un po' pesante ora tu c'hai bisogno di essere curata curati perché per carità ok quindi ok vallo a curare così almeno pure questa la sistemiamo ok ora facciamo la prima cosa a scavare tombe a questi perché a posto vai ora ah giusto li mette lei i cadaveri dentro e tutte queste cose adesso vi faccio vedere queste le abbiamo costruite quindi suppongo che adesso se vado a fare un pavimento tu mi direi di sì vero penso di sì anche perché se no non so proprio come fare ah eccolo qua a posto allora la cosa che voglio fare adesso è visto che c'ho un po' di cibo che mi sta arrivando costruire un altro shelf qui e e vorrei anche terminare questa quindi mi serve altra legna ok questa poi la possiamo pure perfetto allora vorrei fare un'armeria una weapon rack la potrei anche fare qua la weapon rack la potrei fare qui la weapon rack qua tanto il posto ancora c'è quindi mettiamola a fare così ci mettiamo questa roba solo che no in realtà non la voglio fare qui facciamo l'acqua dietro perché poi la cosa che manca secondo me anche mettiamoci un pavimento così chiudiamo poi la stanza dove cavolo sta il pavimento sta qua e solo che mi servono altre risorse altra legna vai raccogli intanto ce l'ho qualcuno che è concentrato nel raccogliere nel cut plant no chopping tree tu c'hai carpenteria e costruzione tu sposti tu c'hai la caccia quindi vai c'hai questa pure come priorità anzi mettiamolo due va perché prima c'è la caccia allora questi praticamente sono pronti diciamo sei però abbiamo poca riserva di cibo quindi direi di raccogliere proprio tutto qui vai qual'è il tasto y a posto ora lei adesso prende e si stanno là dentro a posto e poi dovremmo fare pure del cibo vabbè per ora mangiate i cavoli poi magari domani cuciniamo eh allora ricerca che ci abbiamo vediamo un po' sì andiamo con lei perché mi fai la birra quindi farò un'altra stanzetta vicino la cucina qua e ci farò la birra solo che mi serve della legna ancora vai continuiamo a tagliare adesso qua è notte e lo so abbiamo anche dei letti di merda ancora dobbiamo poi risistemare pure i letti però comunque il morale dovrebbe essere alto ok vediamo un po' il mood è alto mood alto mood alto da che ti manca visto il cadavere ti vuoi divertire relatività religiosa e cibo che fa schifo va bene comunque il morale è ancora alto facciamo una cosa va ah no perché alle 23 iniziamo a dormire va bene si 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 ok vai a dormire ok aspettiamo l'altro giorno non so se mettere in pausa per ora questo no in realtà no perché comunque voglio andare avanti con le tecnologie sto procedendo lento quanto stai di livello per curiosità questo è arrivato marsman no animal handy no chi era era lui era 12 perfetto abbastanza rapido arrivando un po' ok quindi qui ci manca solo questo ci manca la linea ancora però il cibo l'abbiamo messo da parte ma come è poco ma che dici e mi serve la legna è arrivata a 42 perfetto ah la costruzione non può essere raggiunta hai ragione facciamo una porta qui all'armeria e per ora guardate facciamo una cosa veramente standard facciamo così e ci mettiamo clear all ci mettiamo ci mettiamo warfare e questo e il tasto era facciamo prima così ok perfetto queste ci hanno ancora un po' le carote sono quasi pronte quindi io direi di fare quanto cibo vuoi te 12 13 cibo vai ok in materia non è tantissimo però potremmo queste sono cooking material potremmo anche pensare di fare così eh di ampliare un po' eh tanto non è che è la fine del mondo vai tu riesci a fare un fuoco mentre piove outside the rain va bene va bene lo stesso qui ci togliamo questo e questo domani raccogliamo anche le carote anzi vi dirò di più ma in realtà ho anche queste da poter raccogliere quindi pure che faccio così va bene va bene tu stai spostando tutto tanto le cose sono tutte coperte vediamo oh mi manca manca questa vai fai questa qua questa non è ancora diventata una cucina vorrei metterla lei più che altro per iniziare a farla sì dai vai costruiscila mi serve altra legna però quindi direi di fare anche poi una cosa di fare questo e di mettere degli alberi li mettiamo qui però ne mettiamo sei mettiamo ne so così vai vai non siete più idol non vi preoccupate che dopo ve lo trovo ok siete a piantare qualche alberello ok il cibo adesso c'è quindi per questo lo mettiamo a posto solo che qui ah questo dobbiamo togliere da qua e lo mettiamo qui niente questa non mi rimane mi rimane sempre uno spare room vabbè poi giocare da becgammon in mezzo alla pioggia va bene ok nuova ricerca no penso che faccio le armi o forse strutture difensive sapete forse è meglio vai andate a dormire dobbiamo anche rifare i letti va bene ragazzi io terminerei qua l'episodio spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere che ne pensate anche voi del titolo se è una cosa che che vi interessa se vi piacciono questo genere di strategici e noi ci vediamo alla prossima mutata ciao a tutti ciao a tutti